Emilia, Felix e Solidale non esiste più. È stata infestata dall'Andrangheta. I boss hanno contaminato la politica e fanno affari su tutto, anche il terremoto di cui ridono nelle intercettazioni. L'anno zero è stato il 1982, quando da Catanzaro i giudici hanno mandato al soggiorno obbligato a Reggio Emilia il padrino crotonese Antonio Dragone. Reggio poi è stata colonizzata dai successori dell'Andrina di Cutro, i grandi aracri, e diventata, come si legge negli atti, il loro bancomat. Gli indranghettisti emiliani non fanno solo i soliti affari dei mafiosi, usura, estorsioni, edilizia con le cave e il movimento terra. Partecipano alle elezioni, fanno patti con i politici. Secondo l'inchiesta negli ultimi nove anni hanno sporcato il voto due volte a Parma e poi a Salso Maggiore, Brescello, Bibiano, Campegine e Sala Baganza. Gli arrestati dell'inchiesta della procura di Bologna sono 117. C'è anche un consigliere comunale di Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, di Forza Italia. È il prescelto dal clan per fare lobby, una campagna contro le misure interdittive che il prefetto ha preso verso le aziende delle famiglie. Pagliani partecipa anche a una scena dove, secondo l'accusa, mette a disposizione il partito. Al tavolo quella sera c'è anche il padre dell'ex calciatore della Juventus e della nazionale Iaquinta. L'uomo, un imprenditore, è stato pure arrestato. Ovviamente l'interesse di Pagliani non è a fondo perduto. Un affiliato rassicura il politico. Questi voti ti porteranno in cielo. Per voto di scambio è indagato anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Parma, Giovanni Paolo Bernini. I clan usano i partiti come taxi, guardano anche a candidati PD. A Parma nel 2012 la vittoria grillina li spiazza. I comici si sono presi la città. I boss possono contare su una borghesia mafiosa. Hanno consulenti bancari e finanziari per far girare i soldi. Appoggi da poliziotti e carabinieri, fra cui l'autista del questore, godono di buona stampa. Un giornalista di Reggio, anche lui agli arresti oggi, si adopera e intervista il capo clan. Ovviamente le endrine fanno affari con gli imprenditori collusi. Un loro socio, secondo i magistrati, è il costruttore Augusto Bianchini. Consente alle cosche di lavorare nella ricostruzione post-terremoto. I mafiosi, dopo la scossa di Mirandola, ridono perché ci sarà lavoro. L'andrangheta, secondo i magistrati, arriva prima dei soccorsi o comunque in contemporanea. Grazie a tutti.